Ciao ragazzi, in questo video vorrei farvi vedere i prodotti della linea Posh Couture della Kiko Allora, come potete vedere questi qui sono tutti i prodotti che ho e che ho provato ho conservato anche lo scatolino perché come nel caso della collezione sempre della Kiko Out of This World mi è sembrato carino perché anche le confezioni in queste edizioni particolari meritano di essere viste, quindi vorrei farvi vedere nell'ordine i vari prodotti Allora, questa qui è una palette viso che è molto molto carina ed esiste in tre tonalità diverse Allora, io vi dico subito quella che ho scelto, è la numero 03 Supreme Coral Shades La confezione esternamente, come potete vedere, è molto riflettente perché è come se fosse in metallo Aperta Troverete un ampio specchio e tre prodotti diversi Questo qui è un bronzer, questo qui è una cipria illuminante, questo qui è il blush Il blush e i colori esistono poi in varie sfumature Questa qui che ho scelto ha proprio questo blush corallo che è davvero fantastico Un pesca molto delicato che tra l'altro penso sia bene praticamente a tutte Perché è una tonalità molto molto soft Quindi effettivamente merita perché è davvero una palette secondo me molto carina Inoltre, come potete vedere, le cialde hanno questo disegno impresso che è davvero simpatico Io personalmente le sto utilizzando, tant'è vero che avevo conservato le confezioni apposta per girare il video Però siccome mi dispiace rovinare questi disegni, sto prelevando il prodotto dai lati Quindi almeno così, per non rovinarlo subito Questo qui è appunto, dicevo, lo specchio che è molto ampio, quindi è sicuramente molto comoda Vorrei anche farvi vedere un attimo il peso, eccolo qui, 22 grammi Quindi comunque è una palette abbastanza grande Poi ho preso due palette occhi Allora, una è la numero 02 Violet Couture E ha praticamente le tonalità più scure Anche qui vedete la confezione tutta decorata, davvero bella Ora ve la faccio vedere aperta, eccola qui E ha queste tonalità più scure Questo qui è un verde molto scuro, marrone, viola E un illuminante tendente ad un avorio dorato, con dei riflessi dorati Tutte le tonalità, devo essere onesta, sono molto carine Tra l'altro gli ombretti scrivono bene Però non sono troppo pesanti Quindi anche se scure, l'effetto finale è molto carino Se volete vedere come appaiono sulla pelle le tonalità Troverete le immagini della fotogallery sul post del mio blog Quindi questa qui era la palette occhi La seconda palette occhi che ho acquistato è la numero 01 Hot Pink Couture Ed ha invece delle tonalità più chiare Tendenti soprattutto al rosa Al rosa e al bronzo Comunque sono le tonalità più soft Allora, questo qui è un marrone scuro Che è molto simile al marrone scuro Della precedente palette Ve la voglio anche far vedere a confronto Così vi rendete un attimo conto Eccoli qui Queste qui, vedete, sono le tonalità di marrone E sono praticamente molto molto simili Vedete? Ok, quindi questa qui è l'unico colore che hanno in comune Perché anche il dorato in effetti è diverso Quello lì della Violet Couture è leggermente più carico Invece questo qui della Hot Pink Couture è più tenue Quindi questo qui è un marrone scuro Questo qui è un marrone bronzato Questo è un bel rosa caldo E questo qui è un avorio Sempre con questi riflessi dorati Ma decisamente più chiaro Mi preoccupavo che il rosa fosse un po' troppo scuro O comunque un po' troppo carico Perché sembra quasi magenta In realtà no E comunque poi accostato a questi colori del bronzo È davvero fantastico Un rosa molto caldo Quindi è una tonalità davvero molto bella Tra l'altro a me personalmente piace tantissimo Utilizzarli in questo modo Usare il chiaro nell'angolo più interno dell'occhio Per dare luminosità Usare il rosa sulla parte centrale della palpebra E il bronzato nella piega e nell'angolo esterno Per dare un po' di profondità Poi per sottolineare lo sguardo Utilizzo il marrone scurissimo come eyeliner Però ovviamente i colori li utilizzo tutti da asciutti Quindi non bagno con il fix plus In questo modo rimangono anche più soft Anche l'eyeliner lo utilizzo sempre sfumato tra le ciglia Però comunque utilizzando l'ombretto da asciutto Allora questi qui sono colori che praticamente potete usare wet and dry Infatti qui dietro troverete proprio scritto palette occhi 3 in 1 wet and dry Quindi in effetti potete se volete all'occorrenza utilizzarli anche da bagnati Però comunque i colori tendono a diventare più carichi Quindi ovviamente dipende anche dal risultato che volete ottenere Poi ho acquistato un eyeliner Che questo qui è carinissimo Anche perché onestamente non ne avevo visti in giro di simili Ed è in effetti rosa Un rosa lilla Vi dico anche il numero È il numero 02 Iridescent Lilac Ed è un colore davvero bellissimo Vediamo se si vede Anche perché visto senza il riflesso della luce È più soft Quando invece la luce si riflette all'interno di tutte queste mini glitter Diventa davvero un effetto molto molto carino Inoltre senza luce appare più lilla Quando lo vedete nel riflesso appare più argento Quindi anche questo effetto un po' multicolor è molto simpatico Infine ho acquistato un gloss Sempre nei toni del rosa E questo qui è un rosa fragola Con tutti i glitterini all'interno Ed è molto carino Allora questo qui Ve lo faccio anche vedere sul dorso della mano Perché tanto l'applicazione è veloce Ha sempre questo applicatore in spugna Con l'applicatore un po' obliquo E sulla mano appare così Quindi è un rosa fragola Molto tenue Con all'interno questi glitterini Allora giusto per curiosità Voglio farvi vedere Che il prodotto contiene 6 ml di gloss Vediamo forse non si vede bene A causa dei disegni dello sfondo Comunque contiene 6 ml di gloss E questo qui è il tubetto Ora per curiosità vorrei farvelo vedere Paragonato ad esempio Al numero 01 della linea nuova Ovvero quella che vi ho fatto vedere Nel video precedente Eccolo qui Allora questo qui di fatto contiene Quello della nuova collezione La metà di prodotto rispetto a questo Perché contiene 3 ml di prodotto Ma come potete vedere Gli astucci sono nettamente più grandi Quindi ci tenevo giusto a farvi vedere Questo confronto per curiosità Quindi sia il diametro È decisamente maggiore Sia anche la lunghezza Del tubetto Ecco questi qui In questo modo sono perfettamente allineati Quindi vedete Che quello della nuova collezione È un po' più grande Comunque anche questo qui È carinissimo Inoltre Attualmente È in offerta a 3 euro Voglio anche un attimo Dirvi i prezzi Di questi prodotti Che vi ho fatto vedere Così avete più o meno un'idea Allora le palette occhi Hanno un costo di 13,50 euro l'una La palette viso Invece ha un costo di 16,90 euro Il gloss Dicevo ripeto È in offerta a 3 euro E invece L'eyeliner Questo qui Costa 7,50 euro Un'ultima cosa Che vi volevo far notare Appunto Al di là Di quella che è la confezione Che è molto carina Anche la scelta dei colori È importante Perché? Perché le palette Ad esempio Queste qui Degli occhi Contengono di fatto All'interno 4 ombretti A 13,50 euro La linea Posh Couture In effetti Ha fatto anche Una linea di ombretti singoli Le cui cialde Riflettendoci Non sono poi Tanto grandi E comunque Molti di questi colori Sono davvero simili Ai colori Presenti all'interno Delle palette La differenza è che Una palette Contenente 4 colori Costa 13,50 euro Un singolo ombretto Contenente un unico colore Costa 8,90 euro Quindi Il consiglio che posso darvi È questo Se avete modo Anche di andare Direttamente In un punto chico Confrontate bene Gli ombretti Ed eventualmente Decidete di acquistare Quello singolo Solo in due casi Uno Qualora Il colore Sia effettivamente Bellissimo E non sia presente All'interno Della palette Due Qualora sia un colore Che voi usate molto E quindi sicuramente Vi fa più comodo Tenerlo separatamente In altri casi Vi consiglio comunque Di dare un'occhiata A queste palette Perché vi ripeto Molti colori Sono simili Quindi in questo caso Prendendo una palette Potreste provarne quattro Con un costo Leggermente superiore Rispetto all'acquisto Di un solo colore Quindi questo È quello che Appunto Volevo farvi vedere Della linea Poche Couture Nel prossimo video Inerente la Kiko Vi farò vedere Invece Qualche prodotto Singolo Quindi ombretti Mascara Quindi qualche prodotto Che invece Non rientra Nelle linee In edizione limitata Questo è quanto Ci sentiamo Per il prossimo video Ciao